Ecco, allora come fa un sistema integrator a portare poi queste novità tecnologiche alle imprese? Sì, allora grazie, la domanda è estremamente interessante. Allora, io credo che la risposta possa essere, ben o male, data da due fattori. Prima di tutto, competenza sulle piattaforme tecnologiche. Amazon stessa, nel 2017, ha rilasciato, ho queste statistiche, qualcosa come 1430 fra nuovi servizi e nuove features. Questo implica necessariamente che per poter padroneggiare la tecnologia ci vuole una focalizzazione diretta, una focalizzazione esclusiva su questo tipo di tecnologia. E ad esempio noi, come Var Group, ci siamo dotati non soltanto di persone dedicate, ma di una vera e propria divisione che faccia questo di lavoro. Quindi il primo fattore è questo. E il secondo fattore è chiaramente la vicinanza con il cliente. Come Var Group probabilmente abbiamo anche un punto di vista un po' più privilegiato, perché siamo pervasivi su tutta, diciamo, la storia di vita del cliente, perché comunque siamo magari all'interno dei clienti da tanto tempo. Però ecco, l'approccio veramente è quello di partnership con il cliente, perché noi da una parte possiamo portare la competenza tecnologica, ma è comunque sempre necessario mettersi allo stesso tavolo con i clienti che appunto diventano partner e che mettono sempre sullo stesso tavolo le loro competenze di business, dei loro processi, e che in questo modo possono essere ovviamente analizzati e solo a quel punto possiamo realmente portare innovazione. Ecco, voi un po' vi occupate dell'ultimo miglio, diciamo così. Quindi una volta che è stata creata questa tecnologia dovete fare poi il collegamento finale. È difficile questa ultima operazione, quest'ultimo tratto da percorrere? Diciamo che è un'operazione piuttosto interessante. Difficile sì, ma abbiamo per fortuna degli strumenti notevolmente più evoluti, sempre appunto partendo da una conoscenza di piattaforma che è alla base. Oggi riusciamo veramente a portare un'innovazione concreta all'interno delle aziende con degli strumenti che prima non esistevano. Io abbiamo parlato per esempio anche di Sportler, ma comunque qualunque azienda oggi che voglia competere su, per esempio, anche all'interno del mondo del fashion, oggi si ritrova il problema di dover gestire un e-commerce, no? Ad esempio, uno dei motori per sviluppare al meglio l'e-commerce, lo conoscete tutti, sia da un punto di vista di performance di vendita che da un punto di vista di esperienza utente, è il cosiddetto recommendation engine. Che quella cosa che tutti più o meno abbiamo utilizzato in modo più o meno consapevole è che è banalmente quel sistema per cui a fronte dell'acquisto di una fotocamera ti viene suggerita la stessa custodia corretta per quella fotocamera, la secure digital corretta, che tutti abbiamo comprato, no? Certo. Ecco. Gli accessori consigliati. Gli accessori consigliati, esatto. Cioè in automatico, clicchi in automatico. Subito. Ecco, questo è il recommendation engine, che appunto è una delle funzionalità chiave degli e-commerce. Precedentemente, cioè prima che, prima dell'avvento di AWS, era un servizio che richiedeva un effort notevole per poter essere implementato all'interno di e-commerce. Ovvero richiedeva dei data scientist che analizzassero le performance di vendita, che analizzassero le abitudini d'acquisto, quindi poi da lì riuscire a creare un modello di machine learning, affinare il modello, testarlo e poi metterlo in produzione. Questo significava necessariamente un tempo di implementazione notevole, quindi allungando il time to market, e un investimento che chiaramente non è alla portata di tutte le aziende. Ecco, questo servizio, per fare un esempio, è stato reso disponibile da AWS come recommendation engine, che è lo stesso recommendation engine che Amazon ha utilizzato e che è stato alla base anche del successo di Amazon.com. Quindi noi realmente oggi siamo in grado di andare da chi ha un e-commerce a dirgli possiamo oggi integrare un recommendation engine che è quello di Amazon.com all'interno del tuo e-commerce, non stravolgendo quindi tutti i processi di business, ma dandoti questa funzionalità as a service. quindi essendo effettivi da subito sul mercato e con un time to market estremamente ridotto. Grazie, grazie mille per questo approfondimento. Saluto i nostri ospiti.